Il voto è importante, però a me interessa soprattutto la vostra fiducia, la vostra passione, la vostra attenzione, essere comunità, essere famiglia, portare a Bruxelles, portare nei palazzi dei burocrati europei il cambiamento che stiamo dimostrando qua, mettendo prima gli italiani, mettendo prima quello che stiamo dimostrando qua, prima i diritti, prima le regole, prima il buonsenso, mettendo prima l'Italia. Questa è la battaglia in cui io credo, a cui sto dedicando giornate, nottate, impegno, passione, voglia, sudore, entusiasmo, energia, commettendo degli errori, come capita a chiunque faccia, però se ci credete vi chiedo di dare una mano.